Una volta di torno o no? Chi è a gala? Sto registrando o no? Sto registrando o no? Sto registrando o no? Ho premuto e ho venuto fuori E' ora! Sto posto? No! Buongiorno! 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 Stai doze! ... ... ... ... Sì, però il rispetto alla fine del ragazzo è riconosciuto, oltre a conoscere l'attività No, Albertino, l'ha favore No, Albertino, c'è Erarista, Gunn, Scotti, Press, Pava, Nico, Zanna, Emma, Rosso, Jean, Pippo, Tene, Bonatti, se ti levi No, Albertino, c'è un po' No, Albertino, c'è un po' No, Albertino, c'è un po' Vai Ricci, vai Ricci Grazie 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 Ese è quello! Infatti si vede che è manto Il cegaro è talissimo eh! Perchè non fiasca male? Perchè non fiasca male? Ok, chi se lo fa? Più! E' una volta a te, poi che ne mette i sabati, non poteva dire che in mezzo a mezzo. Tra l'altro! Come si! Amore? Come si sono mai tutta la sera! Come si è pieno di essere! Come si è pieno di essere i sabati Perché è venuto al mio giusto a mezzo Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Buono. 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 non ci vedi bene? no, non è la prima no, non è la prima no, non è la prima cosa ben lì, non è il nostro risorto ben lì, 10 l'ora bravi dai, dai, dai dai, dai, dai dai, dai dai, dai grazie vedremo anche il calcio mi spero che si andrebbe a filmato Beh, ma ti capisci tutto davanti al foriero Dopo c'è ma tante di che parole da volare Dopo filmare Donna Buon, bene Deciditi La data La data Non passare Guarda lì, loro la data No, però questa roba qui l'è tutta Guarda com'è Buona Dai Nico Vai Zaglia Buona Rizzi Sostegno rosso, buono Dai Dose 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 Dai, Rosi, vai! Dai, Rosi, vai! Dai, ragazzi! Dai, Rosi, dai, dai! Dai, Rosi, dai, Rosi, dai, do notte. Fuori il Boni. Mi bella, da qua, vai! Indietro. No, no. Grazie! Bravo, Edou! Bravo, Edou! grazie a tutti dai Rizza buona Rizza dai buona Rizza 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 Grazie a tutti. 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 Oh, i 10 metri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. bravi. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 nooo. Sali lì, sali lì, sali lì, bravi lì. Grazie a tutti. Bravi ragazzi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.